Leonardo Massoni, quanta fatica, ma il Lanciano è vivo, un gran secondo tempo, ti soddisfa questo 1-1? Sarebbe stato chiaramente meglio vincere però? Però visto come giochiamo noi anche in trasferta va bene così perché sono sicuro che faremo un'impresa a Trapani. Stranamente contratti nel primo tempo rispetto agli approcci contro il Siracusa è mancato qualcosa, avete sentito troppo la partita? No, solo che magari conoscendoci anche bene le squadre venivano tappati un po' tutti i buchi sia da noi che da parte loro, il primo tempo hanno chiaramente anche giocato un po' meglio. Poi dopo lo schiaffo del gol come sempre veniamo fuori e ripeto è solo il nostro vantaggio questa cosa perché come ci mettiamo a gestire le cose abbiamo dimostrato che non sappiamo fare, invece se dobbiamo vincere come dovremmo vincere lo faremo vedere a tutti. Alessandro Volpe, quando si tira un calcio di rigore in finale che si prova? Pallone pesantissimo, a parte tutto sì, è una responsabilità che comunque prendo tranquillamente come in precedenza, però a parte questo credo che il secondo tempo abbiamo meritato forse qualcosa in più del pareggio. Trapani che si lamenta proprio per la concessione di quel calcio di rigore? Trapani che si lamenta, ci possiamo lamentare anche noi tra Siracusa e credo che la punizione è inventata di oggi, sono cose che comunque lasciano il tempo che trovano e pensiamo ad andare a Trapani e prenderci questa vittoria. Che grande sfida che sarà? Sì, una grande sfida come è stata oggi, come sono state le partite precedenti, è un'ultima partita che vale tutto. Sì, una grande sfida come è stata oggi, è un'ultima partita che vale tutto.